Siamo vicini! Forza! Bene, bene! Siete venuti a dirmi addio? Siamo vicini! Siamo vicini! Siamo vicini! Resisti! Resisti, Sofia! Attenzione! Ezio! Aiuto! Aiuto! Sei ferita, Sofia? No, credo di no! Resisti! Per forza! Oh no! Va bene! Sto benone! Soltate in vista! E li vedo! Per forza! Per forza! Non mi svo'è fuori! Oh no! Ehi! Sì! 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 Perdonateli! Sofia, devi stare attenta! Lo so, lo so! Preparati, Sofia! Altri soldati! Quante lo so, lamento dissi! Gio veloce! Via dalla strada! Ma che stai facendo? Vengo la strada! Oh, cielo! Spostatevi! La vostra determinazione sarebbe attraente se non fosse così esasperante! Razzia di incompetenti! Chi vi ha insegnato a combattere? 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 Chi! Eziu, guarda! Sei stata una spina nel mio fianco fin troppo. Vai, Eziu, io sto bene! Eziu, guarda! Eziu, guarda! E adesso, Eziu, come va a finire? Mi sto chiedendo la stessa cosa. Fermi! Soltati! Sarim non è il vostro signore! Voi servite il sultano! Rispondete solo ai suoi ordini! Dov'è? Dov'è il sultano? Ti sta davanti, fratello. Nostro padre ha scelto. Guarda! Salim! Fermo! Ti prego! Così tu sei l'assassino. Rezio Auditore. Sono Selimi, il padre di Solimano. Parla molto bene di te. È un ragazzo straordinario, con un cervello notevole. Se non fosse per la sua considerazione, ti avrei fatto uccidere all'istante. Lascia questo luogo e non tornare. Hai fatto la cosa giusta, Ezio. Questa non è la tua guerra. Ma dove finisce una e inizia la successiva? Bill, lieto di vederti. Senti, abbiamo un funzionario doganale che aspetta di parlarvi. Spero tu abbia qualcosa per noi. Sicuro. Passaporti e documenti per tutti. Ah, ottimo. Quindi sono un neurochirurgo ora, eh? Siete dei medici del SUNY Upstate appena tornati da Roma col vostro paziente. Terapia genetica sperimentale. Bel lavoro. Speriamo non ci siano intoppi. Un attimo, guardate. Pazzesco. Che succede? Non so bene, ma il cervello di Desmond si sta illuminando come una striscia di petardi. ecco, ci siamo. Che cos'è? Che sta succedendo? Questa è la fine, Desmond. Eliminazione programmata. Che stai facendo? Che cosa ha fatto un uomo se non dei suoi ricordi? Siamo le storie che viviamo. Le favole che ci raccontiamo. Non farlo. Mi sto salvando, idiota! Vai! Va! Ti scrivo queste righe con mano salda e cuor leggero. Ci troviamo ad Acre, Sofia e Dio, con le cinque chiavi di Masiaf in nostro possesso e tutto il tempo del mondo. Sofia è una viaggiatrice esperta e una buona compagna ad avere al proprio fianco così lontano da casa. Domani prenderemo la strada per Masiaf e una volta lì entrerò nella biblioteca di Altair per realizzare il sogno dimenticato di nostro padre. Perdona la brevità di questa lettera, sorella cara, giacché è tardi e siamo stanchi. Forse, se la fortuna vorrà, le prossime parole che udirai da me saranno di persona. Con affetto, Ezio. Grazie a tutti. Di qua. Che scalata. È così bello qui. È qui che è nato il tuo ordine. Nacque migliaia di anni fa, ma qui eri nato. Grazie a quell'uomo, Altair. Altair Ibn Lahahad. Ci ha riunito, poi ci ha reso liberi. Capì la follia di mantenere un castello come questo. Era divenuto un simbolo di arroganza e un richiamo per i nemici. E l'obbligo del minaccioso cappuccio fu anche questa idea sua? Prima hai accennato a un credo. Che cos'è? Nulla è reale. Tutto è lecito. È alquanto cinico. Lo sarebbe se fosse una dottrina, ma è soltanto un'osservazione della natura della realtà. Dire che nulla è reale significa comprendere che le fondamenta della società sono fragili e che dobbiamo essere i pastori della nostra stessa civiltà. Dire che tutto è lecito, invece, significa capire che siamo noi gli architetti delle nostre azioni e che dobbiamo convivere con le loro conseguenze, sia gloriose, sia tragiche. Ti penti della tua decisione di aver vissuto come assassino? Non ricordo di aver preso una decisione. È stata questa vita a scegliere me. Per oltre trent'anni ho servito la memoria di mio padre e dei miei fratelli e ho lottato per coloro che hanno sofferto il dolore dell'ingiustizia. Non mi pento di quegli anni, ma è tempo che viva per me stesso e che li lascia andare. Che lascia andare tutto questo. Allora fallo. Non te ne pentirai. La fine del viaggio. Cosa speri di trovare oltre quella porta? Conoscenza, innanzitutto. Altair era un uomo assennato e un autore prolifico. Edificò questo posto come ricettacolo della sua saggezza. Vide molte cose nella sua vita e apprese molti segreti, inquietanti e strani, che avrebbero condotto alla disperazione a essere i più deboli. Questo ti preoccupa? Sofia, ormai dovresti saperlo, che non sono un debole. Ezio. Dove è un uomo assenato in questo caso. Il rilassato è un uomo assennato. Non è un uomo assennato. 叫 a voi? Non è un uomo assenato. Di un uomo assennato. Devono imp 취zionare il rilassato. Soprima apprendere! Farei meglio a uscire vivo di lì. Lo spero anch'io. Niente libri, né saggezza. Soltanto tu, fratello mio. Riposa in pace, Altaïr. È provveduto ai miei libri? Sì. Alcuni li abbiamo affidati ai Polo. Gli altri verranno con me ad Alessandria. Bene. Molto bene. Padre, una cosa non capisco. Perché costruire una biblioteca se non intendete tenere i libri a... Adesso va. Al ritorno dei Mongoli, Masyav deve essere deserta. Capisco. Non è affatto una biblioteca. È una cripta. Deve rimanere nascosta. Al sicuro da mani avide, finché non avrà trasmesso il segreto che contiene. Quale segreto? Va, figlio. Va con la tua famiglia. E vivi con onore. Tutto ciò che di buono c'è in me, iniziò con voi, padre. Perché tanta è la saggezza, tanta è la pena, e colui che accresce la conoscenza accresce il dolore. Che cosa ti dice? Che cosa vedi? Strane visioni e messaggi di coloro che vennero prima, della loro ascesa, della loro caduta. Ma che cosa ci accade, Altair? Alla nostra famiglia? Cosa dice la mela? Chi erano coloro che vennero prima? Che cosa li ha condotti qui? quanto tempo fa? Liberati di quella cosa! Questo è il mio dovere, Maria. Se ve lo chiedono, dite che mi sono distatto della mela. Dite che l'ho mandata a Cipro, o nel Cipano, o che l'ho gettata in mare. Dite qualunque cosa tenga gli uomini lontano da qui. Questa mela non deve essere trovata fino a quando non terrà il momento. del Cipano. L'ho Grazie a tutti. Un altro manufatto? No. Tu rimarrai qui. Ho visto abbastanza per una vita. Desmond? Sta parlando con me? Ho già udito il tuo nome una volta, Desmond. Molto tempo fa. E ora induge nella mia mente come un'immagine di un vecchio sogno. Non so bene dove tu sia, né in che modo tu riesca a udirmi, ma so che mi stai ascoltando. Ho vissuto la mia vita come meglio ho potuto, senza conoscerne lo scopo, ma tratto come una falena da una luna distante. E qui, al fine, scopro una strana verità. Sono solo un tramite per un messaggio che elude la mia comprensione. Chi siamo noi, benedetti a tal punto, da condividere le nostre storie così? Da parlarci attraverso i secoli? Forse risponderai a tutte le mie domande. Forse sarai colui che alla fine darà un qualche valore a tutta questa sofferenza. Adesso, ascolta. Riesci a sentirmi, nullità? Ce la fai a vedermi? Ah, eccoti qua. Bene. Strano posto, questo giunto temporale. Non ho molta familiarità con i calcoli. E' sempre stato il campo di Minerva. Vedo che hai ancora molte domande. Chi eravamo? Che fine abbiamo fatto? Che cosa vogliamo da te? Otterrai le tue risposte. Basta che ascolti e io ti rivelerò come. Prima della fine e di ciò che ne seguì, noi tentammo di salvare il mondo. Costruimmo delle cripte in cui operare, ognuna dedicata a un diverso metodo di salvezza. Le collocammo nel sottosuolo per evitare la guerra che infuriava di sopra e per precauzione nel caso i nostri sforzi fossero falliti. Il sapere di ogni cripta fu trasmesso in un unico luogo. Era il nostro dovere, mio, di Minerva e di Giunone, smistare e provare tutto ciò che era stato raccolto. Scegliamo le soluzioni che ci sembravano più valide e promettenti e ci dedicammo con tutte le nostre forze a verificarne i meriti. Ne provammo sei in successione, una più incoraggiante dell'altra, ma nessuna funziona. e quindi il mondo è finito. e quindi il mondo è finito. e quindi il mondo è finito. No! 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 La terra tremò per giorni. Il fuoco bruciò per settimane e quando le ceneri si posarono meno di diecimila dei vostri erano sopravvissuti e assai meno dei nostri. Ma proseguimmo, insieme, a ricostruire, a ripristinare. Ascolta! Devi andare lì, nel luogo in cui operammo, operammo e perdemmo. Prendi le mie parole, passatele dalla fronte alle mani. È così che ti aprirai la strada. Ma Bada, c'è ancora molto in bilico e non so come finiranno le cose. né nel mio tempo, né nel tuo. Un attimo, guardate. I suoi dati si stabilizzano. Succede qualcosa. Si sta muovendo. Desmond, riesci a sentirmi? Figliolo. So che cosa dobbiamo fare. in realtà non so che cosi? Non so che aci' Di iniziò